Signore e signore e cari bambini, diamo inizio alla seconda parte dello spettacolo con il numero delle belbe feroci. Preghiamo a tutto il pubblico che si trova nelle prime file di non allungare le mani verso la gabbia e soprattutto di tenere i belbi bambini al proprio posto. Arrivano le tigre ideali del Belgar e vi vengono presentate dal domandone Rafael Marcus. Bello, che bella figa. Da che colori? E' un po' bello. Non sopportare nel quarto, ma non sopportare. presentazione delle belle al pubblico Rikki, che palle! Allè, allè! Allè, allè! Allè, allè, allè! E basta merda! Allè! 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 Ma, siamo, quando... Allè! Che bello! Allè... 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti